Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Rayana e Raya e insieme siamo le stelline! E oggi apriamo le uova di Pasqua di Bauli, grande firme! Qua ci sono tutti i regalini che possiamo trovare, guardate che bello! Questo è di Silvanic, è nel marzupio sportivo, possiamo trovare una borsellina, un astuccio per i trucchi oppure un rossetto, mi piace e altre sorprese che non ci sono sulle foto! E passiamo sull'uovo per lui, in collaborazione con Tucano, Leone e Roncato, cioccolato superiore al latte. E all'interno di questo uovo di Pasqua per lui possiamo trovare Zaino Sacca di Leone, Un zaino da viaggio, un cuscino da viaggio, un berretto e altre sorprese. Sono molto curiosa perché è la prima volta che apriamo questi uovi di Pasqua per lui e per lei. Abbiamo sempre aperto uovi di Pasqua per i bambini. Mi piace tanto, vorrei tanto trovare l'astuccio oppure questa qua, il borsettino, questo fa troppo comodo al mio caso, Ryan. Io vorrei trovare questo, invece io vorrei trovare questo. Invece per te Ryan, da questo uovo di Pasqua vorrei tanto trovare il cuscino da viaggio. Come sapete Celine, noi viaggiamo tantissimo, ogni anno, due volte all'anno andiamo, torniamo nel paese di nascita della mamma di Ryan e Ryan. E del papà. Ecco, quindi viaggiamo sempre 2000 km ogni anno, quindi questo sarebbe utile. E vediamo, togliamo la torta, la ciambella di Pasqua, il bani di Pasqua, vai pure tu che ti sei nascosto dentro e adesso procediamo. Chi apre per prima? Io! Carta, forbice, pietra! Carta, forbice, pietra! Carta, forbice, pietra! Io! Apri, Ryan, andiamo avanti con l'apertura dell'uovo di Pasqua di Baoli, grandi, firme per lei. Così, così, e così. Io posso aprire. Olè, olè! Che rumore adesso! Apriamo l'uovo di Pasqua, anzi, le rompiamo. Staviamo questo qua. Per le pronti? Baoli, per lei, cosa ci sarà dentro? Boom! No, la cosa... L'astuccio! No, non è l'astuccio, la cosa però... È l'astuccio! Io intanto assaggio questo pezzettino di cioccolato. Mmm, buonissimo! Mmm! Dove ho anch'io? Cioccolato superiore al latte. Buonissimo! Mmm! Apri sto regalo, Ryan, che... Che, Rayana? Io, Ryan, non vediamo l'ora di aprire anche per lui. Vado a prendere le forbici. Mentre lei prende le forbici, noi ci guardiamo il cioccolato. È quando torna finita. È molto buono! Mmm! Mmm! Non fanno niente, Rayana, non ti preoccupare. Ah, meno male! Questo è dal suo? Sì, sì, dal suo. Con il potere, con il potere. Dal suo, l'ha aperto con la magia. Ho capito, ho capito! Attenzione, non dai aeree l'astuccio che dopo piangi. È il borsellino d'asporto. Un borsellino. Un borsellino. Mmm! Si mette così per te. Ho capito. Una fascia! Che fascia, fascia! Ho capito, però è molto comoda questa quando fai lo sport. Qua metti le robe. Qua metti le robe e... Adesso, Rayana, visto che lunedì prossimo c'è la gita... Sì. Questa ti fa comodo per mettere i soldini. Vero! Posso fare questo? Solo che me la devi risentare. Sì, sì, perché è un po' larga. C'è possibilità di farla più piccola. Rayana, direi che siamo molto contenti con questo regalino. Questo regalo è approvato. Aspettate. Ho trovato una cosa molto strana che mi ha incuriosito tanto. Guarda qua. Guarda qua. Questa è l'inè? Sì, sì, mamma. C'è pure le cuffie? Sì, sì. C'è il posto per mettere il telefono. Così c'è il posto dove esce il cavo delle cuffie. E finalmente tocca a me. Apriamo. Paoli. Uovo di Pasqua per lui. Per prima volta, Ryan, che apre uovo di Pasqua per lui. Ha aperto sempre uovo di Pasqua da bambino. Rayana, non smetti di mangiare. Anch'io. Era buonissimo il cioccolato. Ryan, cosa speri di trovare? No, avevi detto la sacca, sì? La sacca sportiva. Ecco come si presenta questo uovo. Così si presenta. e l'altro. Oh! Il cuscino, beh, secondo me, sì. Il cuscino da viaggio. Guarda, Ryan, è comodissimo. Guarda come diventa piccolo. Lo prendi, lo metti nel tuo zaino. Quando hai bisogno di un cuscino, lo gonfi e diventa un cuscino. E' capitato quello che voleva la mamma. In questo caso mi fa comodo anche a me. E se vuoi è per il viaggio in pace d'anno? Sì, perché noi abbiamo dei cuscini da viaggio, ma quelli, quelli normali, questo è gonfiabile. Quindi ci fa molto... No, non lo gonfiamo adesso. Questo video si termina qua. Andiamo a mangiare il cioccolato. Ancora un po' fesso, però vi auguriamo buona Pasqua a tutti voi che ci seguite. Ci vediamo con un altro video, con un'altra apertura di uovi di Pasqua. Ciao!